La Quercia, oggi è qui con noi anche al circo olimpico Horse Harmony Tutto brutto, a parte in questo momento Barone Marco su Ramses by Amira Thanks per lui, dopo la campana e si va verso il secondo esercizio sta iniziando a raffrontare in questo momento e lui va a rilaterra Ehi, tra l'altro bravo Sono molto bravo perché si è reso conto di aver fatto l'esercizio in maniera sbagliata e quindi ha deciso di ripeterlo nel verso corretto quindi ha perso un pochino di tempo ma ci ha fatto vedere che è capace di fare i quadrati che è tutto liberato quindi un'ottima performance di Marco che è già arrivato al carcello e che sta continuando a effettuare il suo percorso, la sua gara e ora Paul Vending per lui Anche lui opta per i più vostri anteriori quindi c'è il passale l'esercizio Ora l'ultimo, anzi gli ultimi due esercizi perché questo esercizio ne comprende due ho spostato l'atologiato il ponte ma è già arrivato sul preguardo il tempo è 1.40 e 88 due sono le penalità quindi 10 secondi da aggiungere grazie 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 a tutti.